benvenuto su host academy questa è la prima lezione integrale di un corso completo se trovare l'argomento interessante puoi attivare l'abbonamento annuale con il quale non solo avrai accesso al video corso completo ma anche ad oltre mille video lezioni con test finali e certificati di frequenza in descrizione troverai un'offerta a te dedicata limitata nel tempo buona formazione la funzione page break di joomla permette la suddivisione in più pagine di un articolo con la possibilità di inserire anche una tavola dei contenuti come indice delle pagine questa funzione applicata tramite un pulsante presente all'interno degli editor di joomla individuato il punto del testo in cui inserire il primo page break quindi l'interruzione della prima pagina devi digitare sul pulsante page break si apre la finestra per l'inserimento opzionale del titolo della pagina e del testo da inserire nella tavola dei contenuti quindi clicca sul pulsante inserisci page break utilizzando l'editor predefinito in joomla tiny mc il page break viene visualizzato come una linea orizzontale tratteggiata in questo esempio inseriamo altri page break per suddividere l'articolo in più pagine sul frontend viene visualizzato il numero di pagine che compongono l'articolo vediamo qui in alto a sinistra la tavola dei contenuti in alto a destra e in fondo la paginazione con i pulsanti precedente successivo è possibile visualizzare le altre pagine dell'articolo selezionando le singole pagine nell'indice della tavola dei contenuti o scorrere cliccando sui pulsanti di navigazione nella tavola dei contenuti è presente anche la voce tutte le pagine che permette di visualizzare nella sua interezza l'articolo come noti il titolo della singola pagina compare accanto al titolo dell'articolo spero che questa prima lezione sia stata di tuo gradimento ti ricordo che su ost-academy.it troverai il video corso completo insieme ad oltre mille video lezioni sui più disparati argomenti dal digital marketing a come costruire un sito web o un sito e-commerce con l'abbonamento annuale hai quindi accesso a tutte le video lezioni e a tutte le nuove che andremo a creare nel futuro in descrizione troverai un link con un'offerta dedicata a te limitata nel tempo approfittane buona formazione grazie 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 a tutti